Si chiama Arezzo Wake Up, tradotto è la riscossa di Saione, è il progetto presentato da Ascom e finanziato dalla regione toscana per far tornare ad aprire le staracinesche chiuse nel quartiere appunto di Saione, il più popoloso della città di Arezzo e ultimamente anche il più difficile sul fronte del degrado e della sicurezza. La cosa positiva è se a occupare questi spazi, questi negozi per un determinato periodo di tempo vengano attività fresche, giovani start-up con prodotti nuovi, anche qualche associazione culturale, gli artisti producono sempre molta vivacità e da quello poi scatta anche mettendo insieme iniziative di vitalizzazione del quartiere, faremo spettacoli, faremo mostre, faremo anche piccoli ritocchi degli addobbi urbani laddove servissero, da questo riscatta una riappropriazione. Un cocktail aperitivo prima e un reading di letteratura con il sindaco Ghinelli, Anna Lapini, presidente di Confcommercio e l'attore Paolo Briguglia, sono stati gli ingredienti della serata con cui Confcommercio ha presentato alla città questo progetto all'ombra di quegli alberi a campo di Marte che spesso assistono a ben altro. Un'azione che si concentra essenzialmente sul censimento prima e sul recupero poi dei tanti fondi sfitti, nella convinzione che le attività commerciali rappresentano, rappresentino da un lato un deterrente per le attività illecite e poi anche una grande attrazione per richiamare la gente perché laddove la gente di Arezzo, la gente per bene, torna ad occupare i propri spazi, a riappropriarsi dei propri spazi, la conseguenza è che la gente meno per bene viene marginalizzata e si ritira altrove.